segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te che ricordo una coincidenza particolare in nome di questa nostra anche antica collaborazione vorrei chiederle una cortesia che è questa adesso appena lei è nel giro questo punto per favore provi a dire alla regina Giorgia di essere un filino meno arrogante un po più umile tipo per esempio quando hai 200.000 persone lavoratorie che vengono lì sabato per dirti una cosa chiara siamo gli unici che pagano le tasse fino all'ultimo euro ci tocca anche pagare le cure e con questi salari qui ecco un presidente del consiglio patriota che tiene all'unità del paese un segnalino di ricevuto deve darlo se no signori io conosco la sua moderazione eccetera mi diretta questo paese si spacca nel profondo ecco